Allora, stiamo giocando a una specie di nascondino, in che senso? Nel senso che il killer vedrà esattamente come, cioè poco poco più rispetto che se ci fossero le luci Ok? Ok Tutti gli altri invece vedono tutto Anche se c'è un cadavere, non può essere riportato il cadavere, non si possono fare i meeting I non, come si chiama, i non impostori, la crewmate, deve riuscire a finire le task prima che l'impostore ammazzi tutti Ah raga, più ansia che in the ring No, più ansia di giocare normalmente qua Ah mamma mia, 10.000 osp Ok, Nugget, correte Da, ancora lui Perché è rimasto da solo nell'angolino No, anzi, sapevo benissimo che sei sceso No, non è Nugget, facciamo una questa No, non è Nugget Porco giù Che infarto, Ale L'ho detto, non è Nugget Cazzo vuoi? Ah, è situale allora No, no, no Qualcuno è morto Eh, sì Ciao Ale, anche tu in elettrica Zio, fatti i cazzi tuoi Esatto Come devo andare? No, l'ho moro, l'ho moro, l'ho moro, mi fa paura Guarda pezzo di merda che è entrato in elettrica Pezzo di merda Eh, solo perché dietro che ero lì Fuggi Ah, ok, quindi Ale davvero? No, no Sì No, non sono io È quelli in fabbrica Questoачiva Ero il mio compito anche se morirò il mio compito lo faccio per morire ragazzi anche se si stia per morire ho ucciso 4 in armi in un momento l'altro se no a me tutti in atto li hai presi ma il bello che ieri stava fermo cioè aspettava la morte da parte di Stebbrou nello stesso quadratino quanti ne mancano Ali dove sei? la prima non può vincerlo a Stebbrou no no guardate la propositiva, adesso non c'è Stebbrou c'è l'impostore, dov'è che siamo noi? esatto tanto ti trovo voglio Ale io non sto facendo le tasche mi sto rascondendo e basta guarda se vuole a code fai ping cosa devo fare? quello lì mi aspetta nei punti dove devo fare le tasche sto infame beh è intelligente quello è un punto di vista io lo chiamo stronzo vabbè ci sta dai ma dove cazzo sei? ma dove cazzo sei? i testbbrou, la fianco di testbbrou mamma mia che è ciecato ma c'è la misura di cottissima non si vede un cazzo oh l'ho visto, via! ah di lui portavo l'uomo e vabbè l'altro è finito sei morto Diti? no no sono scappato Ale brutto ti rivolta da me zio eh vaffanculo devo fare la tasca finita le tasca aspetta no ma proprio po' dove cazzo ok 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 quella lunga l'è fatta Ale ti faccio da palo Ale tranquillo li faccio da palo sta arrivando ste brou è arrivato ste brou è arrivato ste brou raga ho finito le tasca via 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 che dubbio hai detto brou sei confuso sei confuso sei confuso ma così confuso coprissima solo si si hai fatto hai fatto un dubbio quanto perfettuale no diti se hai finito le tasca fuggi perché a me mancano ancora si si sto fuggendo siete rimasti a entrare eh si ragazze ste brou ha una kill e vince no ne fanno due no siamo solo io e diti siamo solo io e diti basta che fa una kill solo io e te Ale si siamo solo io e te se moriamo abbiamo perso basta che fa una kill aspetta a me manca solo una diti a me ne manca una ho vinto ne manca solo la mia dove sei Ale scappa vai via scappa fregatene porca merda ho vinto si ho visto diti arrivare che mi dice scappa raga rosso che rosso mi mancava solo uno da uscire tocco a procione dai mamma mia si va bene eh ovviamente sono fiumi vediamo un po' raga ho sicuro che ora che dice procione la vince alle scarattera no il pazzisco raga raga cioè se la prima la dice procione il pazzisco 100% win rate signori date indicazioni raga date indicazioni chi è morto dove siete laki 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 direi che è una ancora laki davvero sempre gli stessi sono senti i passi avvicinarsi madonna non so dove dov'andare via 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 mi sa che è morto oh gesù cristo iari scappa no iari giocava il killer iari frighi qua ci sono tutte le robe belle ste blu raga non state camperati tutti in un punto eh ci sono 15 tasche di cosa oddio no ok a posto no a posto è lui ok a posto non mi spaventare non dovete urlare eh mi trovo questo a farire da luna cosa vuoi fare? io sto fatto a download tu c'eri accanto a me mi fai aaaah no 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 mi fai aaaah no 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 ma mi fai aaaah cosa ha ribaltato qui? dove cazzo è qua? qua aiuto download di me facce la mano adesso faccio la mano non direi niente non direi niente altrimenti mi vede sempre l'unico che pure compi lo so che è solo fermiamo ripiantanti da voi che è arrivata nel tavolo ho quasi l'impressione che sia morto di tira ma non è la doccia ok vedo la gente morta ma siamo solo da dove la che non si usano le 20 lucky raga chi ancora vivo oltre a me tremola tremola siamo io e te io ho finito le tasche ok sono sono reattore prima prende e che cazzo tu gli dici l'attore giusto il rattore gli ha detto e io che cazzo non ho fatto aspetta manca a sé manca soltanto l'ultima di tremola raga si ma dove ce l'hai la eh li ha già detto cazzo no tranquillo aspetta 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 vedo vedo se riesco ad adattirarti lontano stai lontano stai in un posto safe time tu non stai in un corridoio cazzo vediamo dove l'altro c'è cascato c'è cascato dai che sta lì andate dall'altra parte c'è la caccia delle laggate della madonna non è possibile non starnazzare purtroppo in questa modalità è una modalità nascondino in cui se siete inseguiti dite chi vi sta inseguendo e tremola ma anche no ma anche sì c'è l'unico che andava in giro a caso senza avere visione di nulla beh perché sono scemo ma l'ha messo ora alle salva questo pezzo di video non so io tranquillo di merda so cagato addosso di tan 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 merda di tornare cattivezza babbo stillo però chi è via via ma porco ma no ma raga è impossibile che ci sciolte raga veloci con le tasche fate tasche ma che cazzo è lì scappate 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 vi ha già fregati tutti attenzione mi ha mandato addosso agli altri due che c'è io ho capito non c'è colpa di mo io e io sì ma è colpa mia ma moltissima stanno scappate legale segui ora che ti disconnetti che a quest'andazzo non abbiamo neanche a metà delle tasche che questi c'entrano che cazzo di sanzio sono passato di l'acere tutto ammazzata quante soddisfacente far fuori più giù non è neanche idea zio ma siete morti 3 in elettrica no 4 forse 5 ma non si vede un cazzo guarda quattro gente guarda vieni vieni remola c'è un cretino è che non ne mancano tantissime quanti siete ancora via eh sapessi se non le ammazzate ma do raga state zetti però non dite quanti siete vivi così ale deve stare a passare non parlare i diti non parlare perchè? perchè si perchè si diti vaffanculo ok toccaniamo l'uomo l'uomo coggiolo mannaggia vabbè la giocata che ho fatto sul cazzo è da salvare no 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 si salvati sta minchia come finchia crocione poi te lo spiego come si vince una partita tranquillo crocione Sì sì